Dicono che ci sia vento su questo ponte. Sì, c'è un ponte. Bello, eh? E' bello, sì. E' di fare attenzione. Dove vai? Eh, non ci può andare? Non posso? C'è un divieto, eh. Non entri, eh. Ok, sbagliato, allora. Eh, allora, io lo so, ti voglio andare a far vedere le foto. Sì. Teddy, vai dietro, sentita fricciola, è mica l'autogrill, eh. Sì, faccio una faccia. Non si muove, ma non si muove. Non entri. Non entri, allora. Ma che è tu ti sei spiccioli? Non ci passi? No. L'ho già vista questa scena, eh. Ok. Non solo io, eh. Thank you. Non molti in macchina, eh, ora. Senti. Ma sotto? No, 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 sì. È sud, dici, eh. Sì, sì, amore, questa è una strada a fondo chiuso. No. No. Sì, eh, sì. No, no, non è a fondo chiuso. Vì, invece è una strada a fondo chiuso. Cazzo, mi dice di passare in mezzo alla piazza, come faccio? Come si fa passando in mezzo alla piazza? Eh, ora, lì è chiuso. Gira, do qua, gira. Come vado? Eh, prova a girare. Non posso. Io giro. Devo girare. Ma come si fa a chiudere una via così? Uno dove deve andare, scusa. Non lo so. Intanto fermati. Sì, ma dove la faccio manovra? Non lo so, forse bisogna fare un po' di retromarcia, amore. La faccio qui così? No, ci sono tutti bambini, ah. Eh, oh, ma non faccio mica niente. Rimane. Chiedo scusa. Guarda noi, oh. Siamo arrivati in centro, ci tocca fare una retromarcia, tanto dietro, contromano. E, oh, a detta parte ce l'ha stata chiusa, non si è capito il cartello. Questa polizia sarà per noi? No, mi auguro di no. Non so neanche dove sia. Non lo so, è qua. Però di qua a destra ci si potrà andare? Sì, sì, il furgone esceva. Allora io seguo il furgone. Ti insegni questo. Tenta le biciclette, attenta il signore qua a piedi. Quindi, girando di qua, in teoria, di qua di nuovo a destra. Sì, a regola sì. Ti riporta nella strada principale di là. Qui c'è un parco giochi. Ha senso, eh. Occhio, più o meno dovrebbe essere giusto. Guarda un po', questo furgone non gira nessuno di qua. Sì, sì, gira, gira. E vedi, anche lui che lo sa, è lui che ci porta. Quindi. Ma vedrei che ho sbagliato io a fare una manovra prima. Eh, ci sta. Molto probabile. Quando guido io, sono più educata nella guida. Rispetto più le cose, i segnali. Lui va, 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 va. Oh. Allora. Ascoltare tra 50 metri. Ditti là. Compreme una, avrai le indicazioni vocali passo passo. Questa è la piazza che abbiamo visto prima. Sì, là è dove c'era la strada chiusa. Porca. Ecco. Ve l'ho detto che quando guido io è meglio. Il semaforo è rosso, non si può ne vedere, ma... Aspetta, bisogna che vi giri per farvi vedere. Piazza qua, noi dovremmo andare di là. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti